Speranza, mi spieghi una cosa, caro Speranza, una domanda vorrei fare, tu non ci rispondi, ma io te la voglio fare. Perché quello che è stato fatto in Piemonte non si può fare discutendo, modificando, cambiando quel protocollo lì, questo qui lo vedi? Sono 40 parti, ci sono tutte le cose scritte. Perché non può essere preso, esaminato anche a livello nazionale? Perché? Perché i risultati, ministro, li hai visti? Aspetta che te li porto a vedere, mi fai vedere i risultati? Perché magari tu non li hai visti. Eccoli qua, che li faccio vedere bene. Allora, i morti, riduzione dalla media provinciale al 17%, con le cure a casa diminuite al 2,4%, l'espedalizzazione dal 22% al 6,5%. Hai visto Speranza? E noi perché allora siamo fermi ancora? Mi fai vedere, tachipirina e vigilattesa, perché siamo ancora fermi? Eccolo qua. Perché siamo ancora fermi a questi livelli qua? Perché? Perché? Ci si può fare questa domanda? Ce lo si può chiedere? Ce lo possiamo chiedere? Cara Rita, ti ringrazio di essere qui. Ce lo possiamo chiedere? Noi col dottor Mangiagalli ce lo chiediamo da mesi, non è che abbiamo iniziato l'altro giorno. Poi a tardanotte abbiamo cominciato a porre queste domande. Allora, il dottor Mangiagalli non è uno stregone, non ha mai cose medicine per cavalli, cose strane, cose raccolte per terra. No, è un medico serio che da sé, come tantissimi di questi medici, che non merita, non lo ripeto, la demonizzazione che è stata fatta. Diceva giustamente nell'assessore del Piemonte, è passata l'idea cure dei micigliari alternativa al vaccino. Noi dal primo giorno... Mai nessuno... Mai! Assolutamente. Mai, mai, mai. Anche perché nel momento in cui noi trattavamo i pazienti, semplicemente il vaccino non c'era. Non c'era, non c'era. Non è possibile raccontare questa cosa perché non l'abbiamo mai detta e non l'abbiamo nemmeno pensata. E abbiamo cominciato da prima. Però, ecco, il trattare queste persone che dal primo momento sono andate in trincea, hanno rischiato la vita, hanno fatto studi e chiedono semplicemente di parlare, sulla base delle loro esperienze, dello studio, come fossero dei cialtroni, è una cosa... Mi permette di dire, anzi lo dico qui, così si capisce meglio, è una cosa che mi fa schifo, schifo, mi fa schifo, mi fa schifo.